le stelle di azus benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di azus l'oroscopo di venerdì 14 aprile ariete giornata molto promettente per il lavoro sono favoriti gli scambi commerciali ma anche i brevi spostamenti alla comunicazione l'amore riserva sempre delle belle emozioni toro continua la fase molto positiva e la luna di oggi serve ad analizzare attentamente alcune questioni professionali avete una forte creatività quindi non dovete esitare ad esprimere le vostre idee gemelli oggi potreste cedere alla tentazione di prendere una decisione azzardata il coraggio non vi manca e non avrete paura di rischiare gli amici possono aiutarvi a non commettere errori cancro giornata finalmente positiva dopo aver passato qualche giorno di difficoltà l'amore torna ad essere romantico come piace a voi la luna è positiva soprattutto per il lavoro però leone con la luna opposta vi sveglierete di umore variabile pronti a scattare specialmente sul lavoro dove tanti impegni possono stressarvi in amore rischiate di compromettere un rapporto appena nato vergine una luna che vi spinge a pensare ad analizzare a studiare nuove strategie in amore sul lavoro la giornata promette di essere molto produttiva per chi si occupa di legge o di indagini bilancia in amore state vivendo momento molto positivo avete ritrovato l'entusiasmo dei giorni migliori e non perdete occasione per far valere il vostro fascino sotto questa luna e il lavoro a darvi qualche problema in più scorpione non possiamo dire che questa luna sia il massimo per voi ma potrebbe essere molto utile per sistemare situazioni familiari non forzate la mano sul lavoro sarà bene agire con diplomazia sagittario una giornata tutto sommato tranquilla state attraversando momento delicato soprattutto in amore un po di normalità può far bene ad un rapporto capricorno sarete di umore ottimo la luna vi mette addosso tanto ottimismo oltre che fornirvi quel pizzico di grinta in più di cui avete bisogno siete alle prese con progetti di una certa rilevanza acquario una luna bellissima rischiara questa giornata dandovi la possibilità di riprendere in mano situazioni ingarbugliate migliorano i rapporti esterni con i colleghi di lavoro ad esempio pesci è giunto il momento di fare delle scelte importanti ormai sapete perfettamente quali siano i vostri desideri e i limiti da superare marte e gli altri pianeti vi sostengono in questa vostra ricerca e con l'oroscopo di oggi è tutto le stelle di azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su facebook alla pagina oroscopo di azus